And it's you that I want and need Bella ragazzi, ben ritrovati su We4Funny, io sono Baxter E' giunto il grande momento del Road to Division 1 by Baxter Ecco qui la squadra che ho costruito per riuscire a salire questa divisione fantomatica Partiamo dalla porta, Viviano pagato poco e molto bravo comunque Abbiamo un 80 di tuffo e un 70 di precisione Terzino sinistro, Pasqual trovato in un pacchetto a caso Poi Rudiger che me l'ha consegnato un grande youtuber che conoscete benissimo Ovvero Frax, ho visto che lui ha Rudiger ed è una bestia Col suo 80 di velocità e il fisico 78 Abbiamo Astori che è un grande difensore, nulla da dire Terzino destro per far contento Lello, Montoya 86 di velocità E una grande difesa e un grande fisico Poi abbiamo come Cdc, sempre per far contento Lello, Gary Medel Boh, sempre per far contento Lello insomma Abbiamo come esterno destro, Kuba Blasikowski 82 di velocità e 81 di dribbling Non è l'ultimo dei pipponi questo C.O.C., grandissimo Lorenzino Insigne Lorenzone nazionale, 89 di velocità, 70 di tiro e 87 di dribbling Ed Erra sulla fascia sinistra, anche allenato Quindi ha un 91 di velocità, 87 di dribbling, 84 E' una bestia incredibile Arriviamo all'attacco Per far contento sia Lello sia me Attaccanto sinistro, Alvaro Morata Il grande Alvarone Che ha delle statistiche pazzesche 84-81 Incredibile E Mauro Icardi Anche lui un bomber Copertina di questo FIFA Speriamo che questa squadra vi possa piacere Se avete qualcosa di meglio da dirmi E che posso prenderlo Ditemelo di sicuro E come allenatore abbiamo Eusebio Di Francesco Per tenere l'intesa Valutazione 78 Intesa 100 Spero che vada bene Io direi di andare con la prima partita ragazzi Ecco ragazzi abbiamo trovato l'avversario Si chiama PTT1234 Allora Zecco Diuff Casemiro E altra gente che non conosco Tranne Keylor Navas E Tio Wolcott Eh Dai Buona squadretta anche lui Soprattutto Quel Zecco E Wolcott lì Ma anche Diuff non è male Anche perché corre un boato Diuff Vediamo un po' La prima partita come va Bravissima Debutto di notti giocatori Morata e Medel Buona partita ragazzi Ed è velocissimo Ed è velocissimo Cross in mezzo Cross in mezzo Morata Cosa ti sei mangiato Sei mangiato un panino Al Gol Cappero Insalata Grandissimo Pasquale Che recuperone Palla subito per Morata 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 Mamma mia La parata Grandissimo Guardalo qua Guarda che azione Che azione Traversa L'uscita Morata Anche un grande Grande acquisto Morata Ragazzi Veramente un grande acquisto Passa in mezzo Morata Dove è passato Morata 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 Mamma mia Icardi Gol Maurito Icardi Cosa sta facendo Cosa sta facendo Quitta Oppalai Ragazzi Prima vittoria We for funny Dopo un quit Dell'avversario Prima partita I primi tre punti Importanti Ottimo Andiamo con la seconda partita Ecco ragazzi Ho trovato un altro giocatore Si chiama Ioldan Eh Ha una buona squadra Gomez Draxler Altri che conosco Nessun altro Non conosco più nessuno Soprattutto Devo imparare ancora bene Questa storia Qui dei passaggi Perché Probabilmente Cattina Si ne scappa Si ne scappa La mette lì Medel Gary 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 Medel Il primo tiro Il primo gol Dopo quattro minuti Incredibile Stavo parlando appunto Di questa roba Qui dei passaggi E si nota Alla faccia Benissimo Grande Gary Grazie Lello Per questo Giocatore Che mi hai consigliato Veramente Grazie Grande Grandissimo Morato Oddio Che fallo Mi ha steso Con un braccio teso Stile John Cena La larga di là C'è Pasqual Che ci arriva Vero Pasqual Mamma mia Che cacchio ha fatto Vigliano La buttata Sulla traversa Mi fai venire L'ansia Tecnologia Per non subire gol Gol non gol Guardate che roba Tipo ha fatto una mossa di press Mamma mia Che rischio ragazzi Che rischio Insigne Lorenzino Lorenzino La mette lì C'è Morata Tira Morata Dai 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 Sìììì! E sono due! Chi è? Non lo so. Arioplano a caso. Vai, ciamo un altro. Chi è? Icardi! Il Maurizio! 2-0, ragazzi! Dai, buona, buona così. Icardi Medel. Segnali Inter oggi, ragazzi. Fallo. Manca solo Montoya e l'Inter ha segnato. Oh, cos'è sta roba? Oh, 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 oh! No, non segnerai mai! E un altro rigore Mi ha dato un altro Ma che cappero Però ma dai ma cos'è Vediamo un po' Vediamo un po' Come mi tira questo Ce l'ha dato male strano Dai ma buttati Vabbè va Ho capito di prendere i gol su rigore ragazzi Va bene fantastico 2 a 1 per lui dai Arnold Rudiger Che passaggiaccio No via sta roba Via sta palla Basta rigori E un altro me ne ha dato Un altro Andiamo un po' Ma dai ragazzi Ma adesso ogni volta che è così Dai ho il secondo rigore che gli rega Sì Viviano Sì Viviano Paratone di Viviano Paratone di Viviano Sì Un'altra partita vinta per WeForFunny Tanti infortuni Rigori regalati Viviano 9.9 Santo subito Viviano Viviano santo per noi Dai ragazzi ci manca una partita soltanto E andiamo in divisione 9 La facciamo subito Vediamo un po' Ci troviamo davanti La casette Hulk Marchinius Giulio Cesar Santana Ha un po' L'intesa Buonissimo Devo dire Che ha un tipo Tutta la difesa E un pezzo di centrocampo Brasigliano Il resto è tutta una francese Tranne Hulk E Il terzino destro Non mi ricordo chi sia Altra partita molto difficile Questa ragazzi Partiamo subito con Insigne 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 Dove è passato Insigne 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 Su primo palo Insigne Primo Brivido per la tifoseria Ciao Uh cosa ho sbagliato Cos'ho sbagliato Cos'ho sbagliato Cos'ho sbagliato Cos'ho sbagliato Icardi 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 Parata Che cacchio era quella roba Morata E' caduto su una buccia di banana Uh che finta ricordo Vai Eder Vai Eder che sei velocissimo Rientra Fai la finta Così ti voglio Bravo Eder Bravo Opla Oh 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 Vai 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 Eder Vai Eder 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 Una fascia tutta sua 1-0 Infermabile Infermabile Eder Bravo Così Cazzoso Attenzione Non fare cavolata adesso Ecco Eee Lo sapevo Bene Non ci voleva Fekir delle balle fruste Siamo scesi di concentrazione E l'abbiamo preso in quel posto E poi ancora andare al cross Pasquale Il cross di nuovo Morata L'alvarone Che gol di testa Facciamo un'esultanza strana Così A random Bam Grande cross da parte del Pasquale Qui Boom Di testa Gran gol Ragazzi Gran gol Al 45esimo Fa niente Finisce il primo tempo Ecco ragazzi Siamo tornati Ci ha messo un po' Sarà andato in bagno Ragazzi Sono i minuti finali La Cicoschi ruba a palla La butta via così Insigne Velocissimo Ancora lui Insigne 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 Lorenzo Oddio Mi sono mangiato anche questo Gonalon Attenzione ragazzi Grande Medel Medel Santo subito Santo subito Gary Gary Fa allaccio Incredibile Su Gary Medel Che se ne va via palla al piede Salgono tutti Anche il portiere Adesso se segna il portiere Vado a casa di Lelo E lo picchio Butta via sta palla Butta via Butta via sta palla Santana un pippone a crossare E infatti E vanno a vincere ragazzi Vanno a vincere La divisione 9 nostra Incredibile Pasquale A caso Pasquale Grandissimi ragazzi E siamo In divisione 9 Mi ha un po' Giusto? Sì Divisione 9 ragazzi Però Nella prossima puntata Cercheremo di andare Verso il titolo definitivo Quindi ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Ricco di emozioni Se volete ancora Il rotto di Division 1 Basta riempire di mi piace Questo video E ci vediamo Alla prossima puntata Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti